Ok, allora, oggi sappiamo già cosa dobbiamo fare, cioè provare a implementare qualche paio, diciamo, se ci riusciamo, di esercizi che siano basati sulle simulazioni. Allora, il testo del primo l'abbiamo già visto insieme ieri, in cui si parlava di un deposito auto e gli eventi da simulare essenzialmente consistevano nel fatto che un cliente arrivasse dal deposito e poi in funzione dello stato della disponibilità delle auto nel deposito questo cliente poteva prendere in prestito un'auto davvero oppure no, e l'altro evento era il rientro di un'auto al deposito. Va bene, questo era, e noi volevamo sapere, dato il numero di auto, che è l'input alla nostra simulazione, dato il numero di auto presenti nel deposito, date certe costanti di lavoro, certi parametri di lavoro, qual è il numero di clienti non soddisfatti dal nostro servizio. Ok? Questo era l'obiettivo. Allora, proviamo a impostarlo secondo il ragionamento che abbiamo fatto, che è grossomodo riassunto da questa figura. Per il momento dimentichiamo l'interfaccia utente, facciamo un semplice programma che prenda dei numeri e stampi dei numeri, ok? Poi sarà sempre facile agganciarsi davanti all'interfaccia in cui poter inserire i dati. Congettiamoci su questa parte. Quindi, creiamo un progetto all'interno del quale ci sia una classe simulatore che è pensata per essere chiamata da un main oppure dalla classe model della nostra applicazione più complessa. Allora, partiamo con l'eclipse, creiamo un progetto da zero. Su, fai il buono, parti per tempo. Eccolo qua. Allora, chiudiamo tutte le cose vecchie. E partiamo con un nuovo progetto. Per ora facciamo un semplice progetto Java. Concentriamoci sull'algoritmo, dimentichiamo per il momento l'interfaccia. Quindi possiamo chiamarlo simulazione, si chiamava car sharing, lo chiamava l'esercizio car sharing. Simulazione car sharing. Ok. Allora, all'interno del progetto ci creiamo un nuovo nostro package in cui lavorare. Tdp car sharing. E dentro questo package creiamo una classe simulatore. Dentro il quale cominceremo a lavorare. Poi, per il momento, non avendo un programma complesso, completo, faremo il paio con una classe test simulatore che lo lancerà con alcuni parametri di prova. Dal suo main. Quindi cominciamo a lavorare all'interno di queste due classi. Se usassimo la struttura classica dell'applicazione JavaFX, queste due classi andrebbero a finire dentro il package model, perché alla fine sono algoritmi accessibili al modello. Allora, le cose che dobbiamo progettare quando impostiamo una simulazione sono innanzitutto gli eventi e il modello del mondo. Cioè, quali sono gli eventi, quali sono i tipi di eventi con cui ho a che fare e quali sono le variabili di cui mi serve e mi interessa tracciare l'evoluzione. Per definire i tipi di eventi, una cosa comoda può essere quella di creare una enumerazione che si chiami proprio tipo di evento. Possiamo definire un'enumerazione interna a questa classe oppure una classe di numerazione separata, ma in realtà il tipo di evento di fatto non serve all'esterno del simulatore. Quindi possiamo definire, per non andare a complicarci, ad aggiungere classi nel nostro package di programma, possiamo aggiungerla direttamente internamente. Voi sapete che una classe si può definire all'interno di un'altra classe? Fatemi c'è uno di sì o di no. Normalmente noi definiamo una classe per ogni file, ok? Dall'interno della definizione di una classe. Io posso definire un'altra classe, come voglio, la chiamo Pippo, e all'interno di questa definizione definisco una classe intera, con le sue proprietà, con i suoi metodi, eccetera, eccetera. Questa è una classe interna che è accessibile solamente dai membri, dalle funzioni membro, quindi dai metodi, della classe simulatore. Quindi in qualche modo è una classe il cui uso è privato e visibile solamente dall'interno della classe simulatore. Si fa raramente, ma si può fare. Allora, noi lo possiamo fare, nel nostro caso, definendo un'enumerazione in cui esplicitiamo quali sono i tipi di eventi che ci interessano. E i tipi di eventi che ci interessano sono arriva un cliente, quindi customer in, e l'altro evento è ritorno a un'auto. Car ritorno, ad esempio. Quindi abbiamo definito un'enumerazione in Java che cos'è? Semplicemente una raccolta di costanti sotto un nome unico che è raccogliere il tipo di queste costanti. Quindi, di fatto, alla fine customer ring vale 0 e car return vale 1, alla fine. Abbiamo definito delle costanti con dei nomi simbolici. Però abbiamo dato anche un tipo a queste costanti, event type, il tipo di evento. Quindi, da adesso in avanti, ogni variabile che definiamo col tipo event type potrà assumere solamente questi due valori. Adesso, in questo caso, abbiamo solamente due eventi, quindi sarebbe facile. Chiamiamoli 1 e 2, chiamiamoli 0 e 1. Però quando avessimo tanti tipi di eventi diversi di poterli chiamare per nome ci aiuta un pochino a chiaramente a non perdersi nel codice. Quindi qui definiamo essenzialmente quali sono i tipi di eventi gestiti dal nostro simulatore. Il primo evento è arriva un nuovo cliente. Il secondo tipo di evento è viene restituita un'auto. Il viene consegnata un'auto, non lo rappresento, qui c'è un car return, ma non c'è un car exit o car leased. Perché? Ma perché l'azione di affidare un'auto in uscita, nel nostro esempio, è contestuale all'arrivo del cliente. Quindi non mi serve un'azione diversa. Se io avesse un cliente che arriva adesso e prenota l'auto per le due di questo pomeriggio, avrei bisogno di due eventi diversi, o tre eventi diversi. arriva il cliente, prende l'auto, restituisce l'auto. Ma l'arrivo del cliente e la presa dell'auto sono contestuali e quindi non mi serve, poiché avvengono lo stesso istante di tempo, non mi serve distinguerle. Poi, volendo potrei, ma mi complicherai solamente la vita. Ok? E all'interno, e questo è il mio tipo di eventi, questo simulatore quindi gestisce, dovrà gestire una coda di eventi che possiamo, che gli eventi, cosa sono? Sono degli oggetti, possiamo anche qua definire internamente, io ciò che sto definendo internamente la classe simulatore potrei farlo tranquillamente su file separati, quindi fare new class event type, new class event tranquillamente, non c'è problema. Solo che, visto che sono classettine piccole, piccole, metto tutto in un unico file e soprattutto questa classe e quest'altra non sono visibili a nessun altro se non un simulatore. allora la classe evento che cos'è? Una classe che deve, ricordiamo cos'è un evento, un evento contiene due informazioni obbligatorie e una facoltativa. Le informazioni obbligatorie sono sempre il tempo a cui questo evento si suppone che accada, simuliamo che accada in un certo istante di tempo e il tipo di evento. Quindi la classe evento avrà due proprietà il tempo, come rappresentiamo il tempo? Il tempo possiamo rappresentarlo o con un per fare per fare una soluzione complessa, completa, lo potremmo rappresentare ad esempio con un local date time che mi dà ora, minuti, secondi e giorno, mese, anno. Oppure nel caso in cui la simulazione dura meno di un giorno mi basterebbe un local time. local time mi dà solamente l'ora senza il giorno quindi dalle 0,0 alle 23,59. Oppure voglio fare qualcosa di più semplice posso rappresentare ad esempio un numero intero che conta i minuti ad esempio. I minuti dalla mezzanotte o i minuti da partire dalle 8 del mattino o i minuti a partire dall'inizio della simulazione. sta a me decidere quanto ricco quanto semanticamente completo deve essere l'informazione temporale. Di sicuro deve essere un'informazione che rappresenti un tempo e che sia crescente. ok? Allora magari come primo esercizio prendiamo una soluzione semplice mettiamo solamente un numero intero ok? Poi il prossimo useremo un orario vero. Allora quando avrò tempo 50 vuol dire che sono passati 50 minuti dall'inizio simulato del tempo poiché nella simulazione non c'è nessuna nozione di mattino pomeriggio sera eccetera tutto il tempo è relativo semplicemente all'istante in cui inizio a simularlo e poi c'è l'evento event type tipo questi due campi ci devono essere sempre un modo per rappresentare il tempo e un modo per rappresentare il tipo di evento poi avrò eventualmente informazione aggiuntiva serve memorizzare dentro l'evento anche dell'informazione aggiuntiva ad esempio qual è l'auto che è stata data in prestito quindi qual è l'auto che viene restituita in questo caso non ci serve oppure chi è il cliente sarebbe un'informazione che è giusto che sia dentro l'evento arriva un cliente quale lui ha preso un'auto quale quella informazione legata a quale sia l'oggetto coinvolto gli oggetti gli utenti insomma coinvolti in quell'evento quindi se il simulatore avesse bisogno di gestire anche queste informazioni dovremmo salvarle all'interno dell'evento in questo caso il nostro simulatore è molto semplice perché conta solamente il numero di auto indistinte nel piazzale e quindi non ci serve ma è il primo rischio che facciamo quindi va bene che sia semplice ok poi questa è una classe che come sempre deve essere riempita dobbiamo creare un costruttore getter setter per questa classe quindi genera un costruttore genera getter setter su minuti e su tipo io direi di creare solamente i getter e non i setter e così creiamo l'evento come oggetto di tipo immutabile cioè una volta che l'ho creato non posso modificarne i valori non è obbligatorio però ci aiuta perché perché nel momento in cui un oggetto viene messo dentro una coda prioritaria noi lo metteremo dentro la coda prioritaria la Pro-OTQ decide la sua posizione lo mette nel leap quell'alberello che abbiamo visto ieri sulla base del valore dei suoi campi dei campi che ha nel momento in cui viene inserito quindi se io inserisco qualche cosa il cui tempo è 100 lui troverà la sua collocazione dopo il 90 prima del 110 se poi dopo facessi un set time e cambiassi quello valore da 100 a 150 la Pro-OTQ non se ne accorge e quindi non riesci a spostarlo nel posto giusto ok? la coda prioritaria definisce l'ordine degli elementi nel momento in cui vengono inseriti se poi tu cambi il criterio i valori sulla base dei campi sulla base dei quali avviene l'ordinamento succede casino ok? quindi per evitarlo rendiamo tanto non ci serve facciacare questo oggetto qui rendiamoli leggiamo l'oggetto immutabile quindi non creiamo nessun setter poi visto che vogliamo una coda prioritaria questo evento dovrà essere ordinato e quindi dovrò implementare la classe comparable l'interfaccia comparable l'interfaccia comparable significa semplicemente dover implementare il metodo compareTo quindi quando noi dichiariamo di implementare un'interfaccia sapete che Eclipse ci permette di creare in automatico la signature dei metodi che dobbiamo implementare perché altrimenti non è vero che implementiamo l'interfaccia allora il metodo compareTo prende come parametro un altro oggetto e dice che deve ritornare un valore negativo zero o positivo a seconda che l'oggetto sia minore uguale o maggiore dell'oggetto specificato dell'oggetto passato come parametro quindi io per ricordarmi questa regola qua del maggiore minore uguale penso sempre di fare questo meno l'altro quindi se questo è minore devo restituire un numero negativo se sono uguali restituisce zero se sono maggiore questo è maggiore dell'altro ok addirittura possiamo farlo nel senso che qui possiamo semplicemente ritornare this punto time come si chiama minuti meno other punto minuti adesso questo è il comparatore che mi rende minori i tempi precedenti e maggiori i tempi successivi è facile poi dobbiamo ricordarci di controllare la priori tq se mi dà prima i valori piccoli e i primi valori grandi perché io voglio che mi dia i primi valori piccoli altrimenti dovremmo invertire il verso del comparatore se volessimo perché ordinarli in modo crescente e ordinarli in modo crescente questo è per un ordinamento crescente ok essenzialmente è tutto se non vogliamo aggiungere ancora per pulizia i soliti metodi hash code equals e toString sicuramente toString ci servirà per stampare cosa sta succedendo quindi questa classe io l'ho definita come classe interna a simulatore potrei averla definita come classe esterna non c'è problema ed è l'oggetto che andrà a finire nella nostra coda prioritaria adesso cominciamo a pensare al simulatore vero e proprio quindi colassiamo un attimo questo codice simulatore vero e proprio deve gestire una serie di variabili proprie queste sono classi di appoggio ma internamente alla classe simulatore cosa devo avere? devo avere la coda degli eventi devo avere i parametri di simulazione devo avere il modello del mondo e devo avere i risultati da calcolare i valori da calcolare ho queste quattro famiglie di informazioni che sono gestite dal simulatore il più facile è la coda degli eventi che non è altro che una coda prioritaria di oggetti event quindi sarà un oggetto priority queue di event la posso chiamare coda uguale new priority queue punto e virgola l'oggetto priority queue ordina gli elementi secondo il loro ordine naturale quindi dal primo all'ultimo se volessimo cambiare l'ordine dovremmo qua inserire l'implementazione di un comparatore e questa è la coda che per ora è vuota nella quale dovremo inserire gli elementi iniziali e poi sulla quale il simulatore lavorerà i parametri di simulazione sono le condizioni al contorno le condizioni sulla quale il simulatore lavora che possono essere impostate dal main, modificate nel nostro caso avremo ah scusate, metto private qua, l'ho dimenticato sono tutte le variabili private del simulatore allora avremo nc che è il numero di auto, number of cars numero di auto disponibili mettiamo, non so un valore default pari a 20 poi abbiamo il tempo di arrivo dei clienti che sono 10 minuti che è il periodo di arrivo di nuovi clienti in questo caso sono 10 minuti e poi abbiamo il testo ci dice che la durata del viaggio può essere di un'ora, due ore o tre ore quindi se vogliamo parametrizzarlo potremmo dire che abbiamo una durata base che sono 60 minuti e la durata può essere fino a tre quindi abbiamo dei parametri sulla base di quale generare poi i dati il modello stocastico quindi diciamo questa è la durata minima del viaggio e quanti periodi di durata base può durare un viaggio fino a tre qui ho messo delle costanti per inizializzarli ovviamente avrò una serie di setter attraverso cui dall'esterno si potranno modificare questi parametri in modo da poter ripetere la simulazione giocando variando un pochino su questi valori e sono le uniche cose che possiamo cambiare dall'esterno il modello del mondo il modello del mondo cos'è? è una serie di una o più variabili o un oggetto con più campi dipende un po' come lo vogliamo io realizzare che riassume qual è lo stato di tutti tutto il sistema che stiamo simulando quindi in questo caso per noi il modello del mondo semplicemente rappresenta quante auto ci sono parcheggiate disponibili oppure quante auto sono in prestito scegliamo noi come modellare una variabile che parte da nc e ogni volta che un'auto esce si decrementa oppure una variabile che parte da zero e una volta che ogni auto esce si incrementa quindi abbiamo disponibili numero di auto disponibili in questo momento mentre quelle di prima sono costanti nel senso che le possiamo impostare prima della simulazione ma poi quando la simulazione parte non le tocchiamo più questi valori qua che ho chiamato modello del mondo lo stato del sistema per usare termini meno altisonanti lo stato del sistema evolve quindi queste variabili cambiano in continuazione mentre il simulatore va avanti quindi il modello del mondo se vogliamo chiamiamo lo stato del sistema evolvono in continuazione mentre qui i parametri di simulazione sono impostati all'inizio ma poi sono costanti durante la simulazione e alla fine questo simulatore dovrà calcolare dei valori delle statistiche che poi vogliamo esporre all'utente quindi ad esempio il numero di clienti insoddisfatti il testo si dice solamente questo se vogliamo possiamo calcolare anche il numero di clienti arrivati in totale o tante altre belle cose carine magari il numero di clienti arrivati in totale può servirci perché così riusciamo a rapportare con una percentuale gli utenti insoddisfatti rispetto agli utenti arrivati perché altrimenti solo il numero assoluto ci dice poco quindi magari aggiungiamo un altro valore nel momento in cui il cliente arriva bene poi questo cliente poi si è soddisfatto o no si è soddisfatto si prende la macchina si è soddisfatto incrementa il contatore questo è il pacco di informazioni gestito ovviamente in modo diverso che ciascun blocco diciamo così verrà gestito in modo diverso del simulatore questa parte qua modello del mondo sono informazioni che vengono continuamente lette o scritte dal simulatore vedo qual è il modello del mondo quindi decido cosa fare ho deciso cosa fare quindi aggiorno il modello del mondo le variabili da calcolare gli output sono tipicamente solamente scritte cioè vengono tracciate vengono calcolate vengono memorizzate ma il loro valore normalmente non influenza l'esito della simulazione semplicemente la simulazione va avanti per conto suo queste potrebbero anche non esserci le aggiungiamo come punti di osservazione per avere un risultato alla fine ma il valore di queste variabili non influenza la simulazione normalmente così ci diamo dei criteri per capire cosa va a finire dove quale variabile va a finire in quale parte ok a questo punto abbiamo modellato il nostro sistema dobbiamo creare i metodi di lavoro del simulatore allora ci serviranno dei metodi stupidi che sono tutti i getter risetter dei parametri di simulazione e tutti i getter dei valori da calcolare la cosa degli eventi e il modello del mondo invece li lasciamo privati il resto non ha bisogno di vedere cosa facciamo il resto del mondo non ha bisogno di vedere cosa facciamo quindi al di là di questi metodi di servizio ci serviranno poi due metodi principali il primo per inizializzare la simulazione quindi precaricare gli eventi iniziali il secondo per avviare la simulazione farla partire veramente qua nella slide li abbiamo chiamati set parameter e get measure sono semplicemente i getter set di cui parlavamo prima poi qui c'era un metodo load queue e un metodo run sono i due metodi pubblici che il simulatore deve avere uno per inizializzare il simulatore e il secondo quindi definendo degli eventi iniziali o il criterio con cui generare questi eventi iniziali e l'altro run per farlo partire per farlo partire veramente quindi cominciamo a mettere in fondo i metodi stupidi quindi che 3.7 dobbiamo generare per i parametri di simulazione che sono nc team travel base e travel durata sia i getter che i setter soprattutto i setter diciamo e poi per quanto riguarda clienti arrivati e clienti insoddisfatti solamente i getter disponibili no q no e rinfiliamo in fondo ok sono tutti i metodi pubblici ok adesso arriva la ciccia abbiamo detto un primo metodo per inizializzare il simulatore e un secondo metodo per eseguire la simulazione ogni volta che voglio eseguire una simulazione dovrò sempre reinizializzarla per ricaricare degli eventi iniziali e poi chiamare run no i due metodi vanno sempre chiamati in sequenza allora il metodo init che cosa fa permette crea la coda iniziale di eventi ed inizializza correttamente tutte le variabili di simulazione cioè dentro la init immaginiamo che le variabili siano sporche e le mettiamo a posto impostiamo dei valori iniziali corretti comprese la coda degli eventi come fa a creare gli eventi iniziali il simulatore la procedura init può farlo in vari modi dall'esterno il chiamante può passare di una lista di oggetti e sulla base di questi oggetti si crea gli eventi che corrispondono magari all'arrivo di questi oggetti oppure dall'esterno gli passano alcuni parametri numerici statistici sulla base di questi la procedura init si genera da sola gli eventi deterministicamente o stocasticamente ad esempio noi abbiamo già team che si dice ogni quanto tempo arriva un utente questo team ovviamente viene usato dalla init per creare un evento ogni team minuti quindi qui dentro ci sarà un ciclo che genera eventi con un incremento di tempo di team ogni volta io quello che devo dire al simulatore è ok ma quanti ne genero di questi eventi 100.000 100.000 allora avrò bisogno di un parametro che gli dica quanti eventi iniziali creare oppure meglio mi piace di più qual è la durata temporale della mia simulazione cioè la simulazione deve durare 8 ore ad esempio allora quando inizializzo il simulatore faccio una init di 8 ore il simulatore dentro genererà all'interno di quelle 8 ore un evento di 10 minuti è più comodo definire la durata totale perché così che se cambio il team la durata rimane lo stesso ovviamente se il team si riduce avrò più eventi da simulare mentre invece calcolare la durata in termini di numero di eventi è sempre più difficile da capire il numero di eventi ma quanto corrispondono quindi potremmo definire usare come parametro di inizializzazione la durata massima della simulazione in minuti il parametro durata max sarà la durata complessiva della simulazione in minuti perché abbiamo scelto di misurare il tempo semplicemente come numero intero di minuti allora cosa fa questa funzione dicevamo inizializza la coda quindi innanzitutto la coda nel caso in cui fosse sporca la puliamo l'oggetto è già creato è creato vuoto però dopo la prima simulazione magari non è più vuoto non lo sappiamo e poi in questo caso deve generare un evento ogni 10 minuti quindi potrò dire che int time uguale 0 ad esempio e poi while time minore di durata max crea un evento al tempo time di tipo event type punto custom ring e q.add di e e poi scusate time uguale time più team quindi è una breve time che faccio partire da 0 ogni 10 minuti l'incremento di 10 in 10 e fino a quando non ha raggiunto la durata max aggiungo nuovi eventi e man mano che li creo li aggiungo la coda prioritaria mettiamo minore uguale minore uguale il numero di eventi che creo dipenderà dal valore di time e dal valore di durata max va bene e poi a questo punto inizializzo le variabili di simulazione quali sono? sono disponibili uguale nc all'inizio della simulazione quante sono le auto disponibili? tutte clienti arrivati uguale a 0 punto e virgola clienti insoddisfatti uguale a 0 quindi lo stato del mondo e i valori di output lo devo rimettere a 0 insomma inizializzare i valori corretti per poter partire con la simulazione queste altre non mi interessano sono costanti e la coda prioritaria l'ho riempita con i valori che mi servono a questo punto il simulatore è pronto devo solo più farlo partire farlo partire è relativamente semplice perché significa gestire un ciclo in cui estraggo uno ad uno gli eventi che sono in coda e per ciascuno di questi lo elaboro fin tanto che ci sono eventi nuovi lo elaboro facendo sponda per non complicare troppo il codice io qui ho messo una funzioncina privata sotto che ho chiamato process event che è la funzione alla quale delego il lavoro sporco non la digestione dell'evento quindi io avrò la coda e all'interno di un ciclo estraggo un evento e uguale q punto pol ricordiamoci che pol restituisce e cancella la testa della coda facciamo così event e while questo è diverso da null quindi ad ogni iterazione pol prendo il prossimo elemento e quando sono finiti il valore di e sarà null la coda mi dirà non c'è più niente e a quel punto esco dal while affinché non è null devo fare qualcosa quel qualcosa sarà essenzialmente process event di e sento il cuore del simulatore poverino sono solo due righe nella versione più semplice sono solo due righe se io avessi altre condizioni di terminazione più complicate finisci dopo aver eseguito tot eventi finisci quando trovi un evento di un certo tipo tipo catastrofe mondiale nucleare allora la simulazione comunque si interessa interrompe allora lo vado a complicare qua ovviamente ma altrimenti estrai un evento lo elabora estrai un evento lo elabora lo fai lavorare lo fai lavorare da chi? da questa process event che sarà una funzioncina privata che riceve un evento e deve farci qualche cosa e il qualche cosa che farà con questo evento dipenderà ovviamente in prima istanza dal tipo di evento il fatto che gli eventi vengono gestiti in modo ordinato per tempo noi non lo vediamo ma è la priori di TQ che fa tutto il lavoro noi abbiamo definito un comparator una priori di TQ per cui questo ciclo while già mi dà gli eventi nell'ordine giusto non devo preoccuparmene per quello che il codice è sintetico perché il lavoro l'abbiamo nascosto nelle classi che usiamo la process event a questo punto non si deve più preoccupare del tempo dell'ordine con cui avvengono le cose ma semplicemente prende un evento alla volta e ci chiede che cos'è di che tipo è questo evento è un evento di tipo event type punto non bisogna metterlo davanti ok custom ring oppure è un evento di tipo l'altro car return o due casi da gestire entrambi il fatto di aver definito un'enumerazione per il tipo anziché aver usato semplicemente una variabile intera chiarisce molto questo codice e ci evita di dimenticare dei casi oppure aggiungere dei casi che non esistono allora cosa capita quando arriva un cliente beh quando arriva un cliente innanzitutto il cliente è arrivato clienti arrivati più più e non ci pensiamo più è arrivato poi può darsi che il cliente lo riusciamo a soddisfare oppure no sulla base di che cosa? sulla base della disponibilità di auto quindi vado a vedere se le auto disponibili ci sono se le auto sono disponibili il cliente è soddisfatto altrimenti il cliente è insoddisfatto se il cliente è soddisfatto non posso fare altro che tenere ne traccia e basta perché se ne va finisce così se invece riusciamo a soddisfare il cliente vabbè in questo caso dobbiamo dargli l'auto dargli l'auto e prevedere quando la riporterà quindi gli do un'auto decremento disponibili calco la durata del del suo viaggio come? vabbè devo moltiplicare noi abbiamo messo dei parametri che erano travel base e travel durata quindi travel base per un numero casuale tra 0 e tra 1 e quel valore lì quindi abbiamo 1 più mat.random per T travel durata troncata all'intero mettiamo gli anche inti davanti quindi cosa ho fatto qua mat.random è un numero reale tra 0 e 1 0 compreso 1 escluso l'ho moltiplicato per 3 mi dà un numero reale tra 0 e 3 0 compreso 3 escluso l'ho convertito in intero quindi in questo punto mi dà un numero intero compreso da 0 e 3 escluso quindi 0 1 2 sommo 1 e quindi un numero intero che può valere 1 2 o 3 moltiplicato per 60 minuti questa roba è 60 120 180 ok questa è la durata per cui l'auto sta fuori e quindi io posso prevedere che l'auto rientrerà in quell'istante di tempo e allora posso schedulare l'evento di rientro dell'auto aggiungendo la coda beh facciamo in due passi un evento di rientro in cui so quando rientrerà adesso più durata quindi e punto get minuti più durata e il tipo dell'evento sarà event type punto car return questo evento aggiungo la coda ok ti ho dato un'auto allora mi segno che te l'ho data mi calcolo quanto tempo la terrai fuori mettendo un piccolo modello stocastico qui dentro e schedulolo l'evento per poter gestire il rientro quando avverrà il tempo il minutaggio del rientro è pari al minutaggio attuale più al minutaggio della durata che ho previsto e questo q.ad va a inserire l'evento di rientro nel posto giusto in mezzo a tanti gli altri eventi che già ci sono immaginiamo che noi abbiamo eventi per otto ore l'auto sarà fuori due ore allora la vandrà a infilare da qualche parte tra gli eventi d'arrivo degli altri clienti che a un certo punto ritorna a questa auto fine non dobbiamo fare altro in questo momento ci siamo segnati che a una certa ora nel futuro dovremo fare qualche cosa cioè gestire il rientro di quest'auto gestire il rientro dell'auto è semplicissimo perché basta segnarci che è tornata e non dobbiamo fare altro perché poi da lì il rientro di un'auto non scatena degli eventi successivi non mi richiede di aggiornare le variabili calcolate quindi clienti soddisfatti che le siete arrivati perché e quindi ho finito quindi mi permette questo modello di andare a pensare ragionare separatamente i vari casi che possono capitare qui non mi devo tanto preoccupare allora adesso c'è un'auto è uscita poi arrivano tre clienti poi ritorno all'auto prima che arrivi il cliente successivo e cosa capita se arrivano tre auto mentre non arriva nessun cliente cioè non devo gestire i casi particolari di tracciare quando quest'auto rientra è tutto in coda è tutto in una cosa prioritaria ci pensa lei a mettere le cose in ordine per me io posso ragionare evento per evento in quegli istanti di tempo mi preoccupo di una sola cosa poi il resto lo vedrò quando sarà ora quando il tempo simulato arriverà al momento giusto ovviamente la cosa giusta che devo fare è creare gli eventi giusti per il futuro quello devo farlo bene ok questo sembra completo direi vediamo se funziona magari per vedere se funziona potremmo mettere qua una piccola print dell'evento che ci stamperà il tipo e il minutaggio cioè abbiamo messo un toString su evento apposta così vediamo cosa succede e poi passiamo al test simulatore new simulatore lo devo inizializzare con una durata di abbiamo detto 8 ore per 60 minuti potrei qua prima dell'init impostare gli altri parametri chi ne so set nc mettiamo 50 auto ad esempio poi lo faccio eseguire e andrò a vedere alla fine che cosa ha fatto dirò che sono arrivati il percento di clienti insoddisfatti il percento di i clienti arrivati sono sim.get clienti arrivati e i clienti insoddisfatti sono sim.get clienti insoddisfatti vediamo cosa succede faccio run e mi dice ai minuti 0 customer in ai minuti 10 customer in ai minuti 20 customer in eccetera tutti questi customer sono probabilmente soddisfatti poi al minuto 100 è stata restituita un'auto sarà probabilmente quello di 40 che l'ha tenuta per un'ora sola al 110 customer in eccetera adesso se volessimo sapere qualcosa in più dovremmo stampare qualcosa in più all'interno del process event per dire che cosa ho fatto alla fine so che sono arrivati 49 clienti di cui nessuno insoddisfatto proviamo a vedere se riusciamo a far arrabbiare qualcuno dimezziamo le auto avevo 50 auto in tutta la giornata sono solo arrivate 49 persone e volevo vedere e noi dimezziamo le auto dimezzando le auto sono riuscito a soddisfarli tutti ma perché la durata massima di un presito era di 3 ore quindi su facciamo i conti male però se mi arrivano 6 clienti all'ora uno in 10 minuti e al massimo l'auto può star fuori 3 ore sei petto 18 probabilmente con 18 auto ce la faccio ancora infatti se avessi un'auto 2 in meno proviamo con 15 può capitare può capitare che qualche cliente arrivi proprio nel momento in cui non ci sono auto questo è stocastico quindi se io lo rieseguo non è detto vedete che il numero di clienti sono fatti 1 1 0 0 varia oscilla tra 0 e 1 a seconda dei casi il più delle volte è 0 se io scendessi a 12 perché voglio risparmiare e comincio a avere crescono rapidamente i clienti insoddisfatti 4 7 sono anche più variabili dimmi potremmo anche più della realtà inserendo la realtà inserendo si o possiamo qui a questo punto possiamo giocare diciamo va bene io ho fatto il conto che con 15 auto soddisfo tutti però cosa capita il giorno magari in cui c'è la festa o c'è più turismo e mi arrivano utenti non ogni 10 minuti ma ogni 5 minuti è un disastro perché ne vanno via a metà oppure come dice lui adesso la cadenza degli utenti esattamente 1 1 10 minuti è un po' troppo rigida e quindi il simulatore è un po' ingessato proviamo a dire sì 10 minuti in media però con una certa varabilità di 5 minuti in più o in meno allora in questo caso però questo sarebbe già modificare il testo in questo caso basterebbe modificare la init che quando calcola il tempo di arrivo quando crea l'evento non prende time ma prende time più o meno una variabile casuale tra meno 5 e più 5 ad esempio quindi in media sono sempre gli stessi però potrebbero essere un pochino più assiepati e un pochino meno assiepati si può giocare quanto si vuole cioè se noi dovessimo effettivamente dimensionare gestire una cosa di questo genere prima di tirare fuori le 300.000 euro che servono per acquistare le vetture vediamo mi conviene acquistare una vettura in più con il rischio di avere l'1% di clienti insoddisfatti il 2% il 5% di clienti insoddisfatti trovo il mio punto di equilibrio ovviamente qualsiasi punto di equilibrio il simulatore non te lo dice ti dà lo strumento per poter giocare provare vari tipi di analisi e vedere che cosa esce adesso qua l'abbiamo fatto così semplicemente come un'unica classe con l'interfaccia testuale quindi per modificare il parametro devi andare a ricompilare il programma ma immaginate di avere davanti la vostra bella interfaccina con i numeri con le caselline cambi valore fai il run e alla fine hai la tua in fondo riassunto di tutti gli esperimenti che hai fatto con i risultati e sulla base dei quali poi puoi decidere quindi questo qua è un pochino lo spirito con cui si usano questi strumenti o addirittura potresti decidere di spazzolare lo spazio di ricerca proviamo a far variare il numero di auto da 20 a 40 proviamo a far variare il tempo d'arrivo dell'utente da 5 a 10 proviamo tutte le combinazioni e salviamoci il risultato e vediamo se mettiamo una bella tabellina quadrata e vediamo qual è il punto di maggior profitto il simulatore c'è gira tutte le volte basta che ogni volta li chiami init e poi run e lui riparte da capo questi risultati qua anziché stamparli semplicemente me li salvo da qualche parte e poi li analizzo con calma li metto in Excel li analizzo faccio un grafico quello che volete ok allora questa è la nostra prima simulazione la seconda la facciamo un pochino più complicata e la seconda ve la racconto prima dell'intervallo e poi cominciamo a lavorarci allora la seconda simulazione che facciamo simula il comportamento dei pazienti all'interno di un pronto soccorso emergency come funziona il pronto soccorso quando i pazienti arrivano vengono velocemente vistati nella fattispecie da un infermiere che fa il cosiddetto triage cioè assegna un valore di gravità al caso che ha di fronte dopodiché questi pazienti vengono smistati tra uno o più studi medici dove ci sono dei dottori che li vedranno il codice di severità di gravità dà la priorità nell'accesso ai dottori quindi se c'è uno col codice rosso passa sicuramente prima di uno che il codice è bianco a parità di severità passa prima che è arrivato prima queste sono le regole le severità sono di quattro tipi quattro codici caso white non urgente può aspettare quanto vuole tanto non è grave non è urgente la persona che viene messa a cui viene segnato un codice bianco però dopo un po' si stufa dice io non sono grave ho solo mal di testa sono qua da due ore mi sono stufato tanto vedo che non passo vado a casa ok quindi il comportamento dei codici bianchi delle persone che rappresentano i codici bianchi è che dopo un certo time out se non riescono a passare vanno a casa codici giallo codici giallo è una persona che ha una gravità seria ma non urgente quindi è da guardare ma non anche se non lo guardiamo subito non capita niente allora i gialli non se ne possono andare a casa perché hanno una condizione seria e anzi se aspettano troppo rischiano di aggravarsi quindi nel nostro modellino un paziente giallo dopo un certo time out se non riesce a passare dal medico diventa un codice rosso quindi cambia la sua priorità per eventi interni sopravvenuti codice rosso e beh ovviamente è quello urgente rischia la vita quindi deve passare davanti agli altri se passa un certo tempo senza che un codice rosso venga servito diventa codice nero di cui non commento ma sicuramente dal punto di vista simulatore un codice nero non richiede del lavoro da fare da parte dei medici quindi ogni paziente che arriva può arrivare con uno viene etichettato con uno di questi quattro stati e vediamo che poi c'è la possibilità di passare con certe regole da uno stato all'altro vabbè qui ci sono dei valori di esempio per ripostare poi la simulazione il primo valore è qui chiamo duration triage ah no scusate questi non sono i time out sono degli altri valori che dicono quanto durano le varie fasi che ne so il triage quanto ci mette l'infermiera a fare il triage 5 minuti quanto ci mette il medico a visitare e mandare a casa un codice bianco 10 minuti quanto ci mette a visitare e mandare a casa un codice giallo 10 quanto ci mette a visitare un codice rosso 30 minuti e così via che indicano il tempo per cui le risorse del sistema sono impegnate cioè se io ho un codice rosso sono un medico mi arriva un codice rosso io per quei 30 minuti non posso vedere altre persone anche se ce ne sono 100 fuori in attesa dopo 30 minuti questo codice rosso lo mando via e può entrare il prossimo in ordine di severità quindi cosa capita agli utenti l'utente arriva al triage quindi io arrivo adesso sono le 17 e 17 arrivo al triage se non c'è nessuno passo subito appena il triage è libero passo e dopo 5 minuti mi sarà assegnato un codice colore un codice di gravità se in quei 5 minuti in cui io sono in triage sono impegnato lì visto che il triage è uno solo arriva un altro paziente e dovrà aspettare anche se è un codice gravissimo in realtà non c'è ancora il codice dovrà aspettare che io finisca quindi c'è una prima coda piccola rapida di accesso al triage dopodiché tutti andiamo in un'unica grossa sala d'aspetto in cui aspettiamo di essere chiamati supponiamo che ci siano tre studi medici e quindi non appena il medico dello studio 1 si libera chiama il prossimo con la regola che abbiamo visto della severità e del tempo se si libera qualcuno dello studio 2 idem e così via quindi io so quando una persona entra e sulla base del codice di colore che ha quando entra so anche quando uscirà in queste persone tendenzialmente usciranno tutte dallo studio in realtà ci sono altri due modi di uscire che è quello di essere in weight e stufarsi perché sei bianco o morire perché sei rosso diventi nero quindi il nostro lo fatemi prima vedere questa ho provato a analizzare un pochino più in dettaglio i vari stati attraverso cui ciascun paziente può trovarsi quindi non sono ancora gli eventi mentre prima avevamo le auto e l'auto poteva essere semplicemente in casa o fuori e noi in realtà dell'auto specifica non ci interessava perché ci interessava solamente sapere quante fossero dentro o quante fossero fuori qui abbiamo i pazienti di cui ci interessa sapere individualmente non chi sono ma in che stato sono per cui ho un paziente che può essere un paziente nuovo cioè appena arrivato nel sistema non ha ancora passato il triage poi nel momento in cui passa il triage può essere inserito diciamo va in sala d'aspetto e in sala d'aspetto ci può andare con un codice bianco giallo o rosso quindi va in uno stato waiting cioè io sono in attesa e ho questo colore poi da questo stato posso uscire per motivi diversi motivo più semplice è che si è liberato uno studio medico free studio free studio free studio e quindi dallo stato waiting passo allo stato treating cioè mi stanno curando e poi esco poi ho le transizioni intermedie dovute ai time out un bianco se va in time out esce un giallo se va in time out diventa rosso un rosso se va in time out diventa nero questa è l'evoluzione di ogni singolo paziente e vabbè e quindi di fatto il mio modello che è quello che deve rappresentare deve rappresentare un insieme di pazienti che sono gestiti nello studio sono arrivati in ospedale ciascun paziente avrà un suo stato quindi non mi basta sapere quanti pazienti ci sono ma devo avere una collection una lista di pazienti perché ciascuno ha un'informazione associata che è il suo colore il suo stato in generale non solamente il colore ok questa fa parte dello stato del mondo cioè del modello non è la cosa degli eventi gli eventi non sono i pazienti gli eventi sono le azioni che capitano ai pazienti quindi arriva un paziente nuovo esce un paziente dal triage scatta in tamalto un paziente si libera uno studio e così via questi nomi che sono sulle frecce rappresentano gli eventi che causano la variazione dello stato del mondo quindi abbiamo qualcosa che mi descrive com'è il mondo adesso ci sono 20 pazienti fatti in questo modo punto questa è un'informazione puntuale istantanea adesso poi mi chiedo quali sono le cause che potrebbero variare questo stato e questi sono gli eventi in un sistema discreto ogni evento cambia serve a qualcosa se fa qualcosa è perché è cambiato lo stato del mondo e quindi prende un paziente lo cancella prende un paziente lo aggiunge prende un paziente gli cambia lo stato gli cambia colore eccetera eccetera ok quindi questa volta il modello è un pochino più complicato ovviamente rispetto a quello delle auto cominciamo a lavorarci ma soprattutto abbiamo separato un modello del mondo significativo non più solamente una variabile int separato rispetto agli eventi quindi dobbiamo sempre abituarci a pensare in termini di stato e variazione di stato situazione attuale e evento che causa la variazione della situazione attuale e separarle mentalmente perché altrimenti ci confondiamo e mettiamo nell'evento lo stato o viceversa e poi non ne usciamo più essenzialmente allora su questo esercizio di emergency su questa evoluzione degli stati direi che ci possiamo fermare fare un quarto d'ora o un pochino più di intervallo e poi aggredire il problema dal punto di vista della simulazione di intervallo di intervallo